Ci sono tanti tipi di luce, qual è quella che ti guida? Buongiorno, buongiorno, buon caffè? Sì, ho tagliato la barba, ve ne siete accorti. Ci sono tanti tipi di luce, c'è quella che abbaglia, quella che ti toglie lo sguardo, che non puoi sostenere, è talmente forte, cruda, insistente, quasi violenta, che alla fine è come se fosse il buio, non riesci a vedere nulla. Come guidare contro luce, in questa stagione quando il sole c'è, è splendido, è bello, ma è basso sull'orizzonte e ti impedisce di vedere alcunché. Poi c'è la luce piena, morbida, che toglie ogni ombra, che delinea ogni particolare, che cesella, direi quasi, la realtà, che ci permette di vedere tutto con una chiarezza non abbagliante, ma una chiarezza lucida, profonda. Poi c'è la penombra, che ti permette di gettare lo sguardo dappertutto, ma non ha il coraggio di rivelarti ogni dettaglio, te li mantieni lì, nel dubbio, e non capisci bene i confini, soprattutto i confini, sono così labili da sembrare pastello. E poi c'è la luce che puoi tenere in mano, una torcia, una candela, qualcosa che non ti permette di vedere nulla se non soltanto il prossimo passo. Non è forse questa la luce che, in fin dei conti, noi abbiamo come compagna, come amica, come guida durante la nostra vita? Perché è così, è così nelle relazioni con i clienti, per esempio, è così nelle relazioni con i colleghi, è così in famiglia, è così con gli amici, hai quel tanto di luce che ti basta per vedere dove sei, per vedere un passo o due avanti, e poi devi camminare, continuare, procedere se vuoi scoprire nuovi punti, se vuoi vedere cosa c'è dopo, se non ti basta fermarti dove sei, perché comunque a un certo punto la candela si consumerà, la torcia si spegnerà, e non avrai più l'opportunità di procedere, innanzi, di andare avanti in quella relazione, in quel momento, nella scoperta del cliente, nella scoperta dell'amico, nella scoperta dell'amore, magari. Abbiamo questa possibilità, che c'è data però perché in mano stringiamo qualcosa, abbiamo veramente questa possibilità di fidarci di quello che abbiamo. La luce c'è, continuerà a gettare davanti a noi il suo raggio, ma soltanto un passo alla volta. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè!